La tutela delle libertà economiche di cittadini e imprese oneste per l'equità sociale e il benessere della collettività. È questo l'obiettivo ribadito stamattina a Pesaro dal comandante provinciale della Guardia di Finanza Antonino Raimondo in un incontro con la stampa per fare il punto sugli attività svolte nel corso del 2016. Lotta all'evasione fiscale, all'illegalità nella pubblica amministrazione, agli sprechi di risorse e alla criminalità economica in generale. Sono questi gli scopi principali delle operazioni svolte nello scorso anno. A livello centrale e dall'interscambio di queste informazioni con i controlli effettuati sul territorio. Quindi le nostre azioni pur consistenti sono tutte mirate su azioni specifiche e su indici di anomalia che presentano i vari soggetti. I numeri ci mostrano un'intensa attività operativa in crescita rispetto al 2015. 4.300 sono stati gli interventi in un anno di attività delle fiamme gialle provinciali. 45 i piani operativi attuati contro l'illegalità. 255 le deleghe di indagine commissionate dalla magistratura ordinaria. Sono state individuate inoltre 5 linee guida organizzative per distinguere le attività tra loro in base alla natura dell'intervento. Frodi fiscali ed economia sommersa con 771 interventi e 59 indagini rese possibile grazie a 40 banche dati disponibili con un recupero patrimoniale pari a 1,7 milioni di euro. Truffe su fondi pubblici e amministrazione con casi di illegittima percezione o richiesta di finanziamenti comunitari e nazionali pari a circa 320 mila euro in crescita del 30% rispetto al 2015 e sei accertamenti svolti su delega della Corte dei Conti per danni patrimoniali allo Stato nei quali rientrano anche le truffe sanitarie e sociali che hanno visto irregolarità nel 50% dei casi. Criminalità organizzata cresciuta del 150% rispetto all'anno precedente e con un recupero di 9 milioni di euro di denaro riciclato. Traffici illeciti sono stati 58 gli interventi per reati di contraffazione e 139 i grammi di droga sequestrati con un incremento del 30% rispetto al 2015. Ed infine sicurezza pubblica e controllo del territorio aspetto che sta a cuore ai cittadini che con le loro 350 chiamate circa hanno permesso alle 1460 pattuglie operanti nel territorio di individuare e sopprimere gli illeciti.